È ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Padova la donna di 62 anni, operaia della Filtessil di San Giorgio in Bosco. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando la donna è rimasta impigliata con il camice da lavoro nella macchina su cui stava operando. Nel tentativo di liberarsi la donna sarebbe rimasta schiacciata. Subito è scattato l'allarme, provvidenziale l'arrivo dei carabinieri della stazione di Tombolo che hanno praticato il massaggio cardiaco all'operaia in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. In questo momento la donna si trova ricoverata in prognosi riservata. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta affidata allo Spisal.